Ho delle squadre in zona, ma l'IM le ha trovate. Le strade sono campo di battaglia. Digli di tenere duro. Un'unità della resistenza sta lottando disperatamente vicino a voi. Ti aggiorno l'interfaccia. Diamogli una mano prima di raggiungere l'armeria. L'IM inizia ad avere la meglio, Cap. Ricevuto? Sto arrivando. C'è un'unità speciale nemica nelle vicinanze. Se la sconfiggente potreste ricavarne qualcosa di utile. Vuole ancora il mio fraccio, truca? Stop the drops of us! C'è un'unità speciale. L'IM fa di tutto per presentare il suo programma a tastoidi come benevolo. Chiunque gestisca il reparto PR è un genio. Se svegliamo la verità, verrà liquidata come falsa notizia. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. La resistenza, Bisù. Non ci credo che stiano combattendo per le strade. Dove sono i giornalisti che lo servono? Probabilmente l'IM sosterrà che gli agenti della resistenza sono i cattivi di tutto e che le loro scuole si sono semplicemente difese dagli spietati aggressori. E questo è tutto, ragazzi. Non faccio altro che vincere, vincere, vincere! Non faccio altro che vincere, vincere, vincere! Non faccio altro che vincere, vincere, vincere! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Così pare. Occupiamoci di quelle forze di sicurezza ed entriamo. Grazie a tutti. L'hai aperto. Bene. A quanto pare era l'ultimo. Forza. Facciamo vedere all'AIM che non possono fermare la Resistenza e gli Avengers, specialmente quando collaborano. Porta da questa parte! Surpresa! Non ci credo. Siamo dentro! Tutto come previsto, Doc. Ho segnato l'ascensore sulla sua interfaccia. Doc. Doc, lascia i tuoi uomini indietro finché l'area non è sicura. Una volta ripurita, potranno venire a equipaggiarsi. Ah, Tio insiste per aiutarti. E non c'è letteralmente nulla che io possa fare per fermarlo. ricevuto. Pare che mi accompagnerai, Tio. È quello che volevo, Cap. Diamo delle armi migliori ai tuoi uomini, Doc. È il mio compleanno. Quando parli così, mi sembra che sia il mio compleanno. Diamo delle armi migliori ai tuoi uomini, Doc. C'è un alleato della resistenza nei guai e nelle vicinanze e ha bisogno d'aiuto. Andiamo. 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 Arrivano! 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 Ha funzionato! Dio, usi i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Ogni deposito è schermato. Dovrò esporre i generatori e distruggerli, in modo che i tuoi uomini possano accedervi. Per accedere ai generatori, usi il pannello di controllo all'interno. Faccia in fretta, perché non resteranno esposti a lungo. L'AIM produce dell'equipaggiamento davvero notevole. Il generatore è spunto! Devo distruggerlo! Sono Tio, pronto a combattere. Il deposito è aperto. Ottimo lavoro. Ora il generatore degli scudi sarà vulnerabile. Scappo di forza è disattivato. Devo solo eliminare quella da tolte. E per il mio prossimo trucco? Lo stai dei Sittà! Siamo un po' di spolette. Siamo un po' di spolette. Siamo un po' di spoli. Siamo un po' di spoli. Questo esporrà un generatore di scudi. Ne terrò impegnati quanti più possibile. La scuola è la scuola. Vi ho finito. Pronto a fare vadere i membri della Resistenza, Doc? Puoi scommetterci. Con questo equipaggiamento finalmente potremo affrontare l'IM ad armi pari. I miei uomini prenderanno il necessario. Io sto già consegnando le armi alle squadre in strada. Consegna espressa. Mi piace. Lieto di essere d'aiuto. Queste armi sono incredibili, Cap. Faranno la differenza sul campo. Felice di sentirlo. Ne avremo bisogno se vorremmo vincere la guerra contro l'IM. È terribile che l'IM imprigioni gli inumani in quel modo. Scommetto che intendevano liberarli e usare i nuovi modelli di adattoide per... Grazie. 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 Ok, sono in superficie. Procedo. Sono pod di dispiegamento per adattoide. Ma quanti ne ha schierati l'IM? Bella domanda. Per fortuna abbiamo delle nuove armi. una volta liberati i membri della resistenza ci aiuteranno ok rendetevi una pausa ragazzi le comunicazioni a m indicano la mobilitazione di altre unità per travolgere le nostre forze sì me l'aspettavo A quanto pare era l'ultimo. Se potessimo anche solo rallentare la produzione dei nuovi adattoidi, dormirei molto meglio. Ora la resistenza fa saltare i veicoli della polizia, Doc. È opera dell'IN Cup, giuro. Anche con gli Avengers siamo sicuri di poter affrontare così tante unità aIN. Bella domanda, Doc. Comandante Hill, com'è la prima sortita? Le squadre dovrebbero raggiungervi ai momenti. Basta come rispondo. Eccellente. Ora disattiva l'alimentazione delle celle per aprirle. Basta torta. Anche con gli Avengers. Come lo stupendo. Voi spettate. No. 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 Grazie a tutti. È l'ora del riposino! Correggio! Ottico, sono liberi. Grazie. Per presa! Un altro membro della Resistenza libero. Sareste venuti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando portiamo lo scontro all'AIM. Attento, Cap. L'AIM sta inviando altre unità e il ponte per l'obiettivo è un ottimo luogo da sfruttare come stretto. Ricevuto, comandante. Grazie. Attento, Cap. Quel gruppo ti ha puntato. Li vedo, comandante. Sono proprio tutti. Sono proprio tutti. Grazie a tutti. Ai, sei. Ai, sei. E' mi sta! Oh. Hai steso uno Un cattivone a torno Tutti pronti all'evento principale Distruggere i nuovi adattoidi dell'AIM dimostrerà al mondo che non sono invincibili Faranno il possibile per cambiare le carte in tavola e passare per via Vero, ma qualcuno saprà comunque la verità Mi vale la vita Nostro obiettivo è in cima a quella torre Andiamoci da fare Le loro difese sono disattivate Un cattivone a torno Un cattivone a torno Un cattivone a torno Abbiamo lavorato sodo per questo Gente, state pronti a tutto L'AIM ci sta scagliando addosso tutto il possibile Ma insieme possiamo batterli Solo non guardate in basso se soffrite di vertigini Ci siamo, gente Collaboriamo e mostriamo all'AIM questo variazio Sì, sì, sì. Bel fatto! Adattoide e andiamo! Bel lavoro! Hai distrutto uno! Ce l'abbiamo fatta. È stata fortuna. No, abbiamo collaborato e alla fine abbiamo vinto. Puoi dirlo forte. L'IM vuol far credere al mondo che siamo noi, i cattivi. Che gli Avengers, lo Shield e la Resistenza vogliono nuocere alla gente. Ma alcune persone sospettano già la verità. L'IM vuole prendere, non dare. I loro Adattoidi sono qui per controllare, non aiutare. Noi dobbiamo fare tutto ciò che è il nostro potere per spargere la voce e far sapere a tutti che non sono soli. Non sarà facile. Forse. Ma abbiamo la verità dalla nostra. E mi piace pensare che conti ancora qualcosa. Abbiamo anche un'alleanza. Cosa ne dite? Anche voi. Non è un'alleanza. E mi piace pensare. Aspetta. al mondo uno squarcio della vera AIM. Mostrare a tutti il loro vero volto richiederà tempo, costanza e pazienza, ma so che possiamo farcela. Sono orgoglioso di voi. Lo SHIELD è sempre pronto a dare una lezione all'AIM, Kappa. Lo sai bene? Non solo avete liberato i miei uomini, ma come ciliegina sulla torta abbiamo persino ottenuto armi avanzate dell'AIM. Grazie. 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 Non ho risposto per quei codici di sicurezza. Non ancora. Aspetto un aggiornamento a breve. Ehi, Kate. Fammi sapere appena sai qualcosa. Check dei sistemi della camera. Allora, pensi di poterci fare un favore? Incuriosito qualcosa? Tutto fatto a mano, tutto fantastico. Tutti i proventi mi aiutano ad andare avanti. Ah, va bene. Ma... Tornerai... ... ... ... ... ... sicuramente salve 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 Grazie a tutti. 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 Il posto dovrebbe essere poco più avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non siamo soli. Grazie a tutti. E questo è tutto. Il posto. che stiamo cercano che stiamo cercano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra che questo gigante Kree sia stato sconfitto da armi dello Shield. Abbatterli con metodi convenzionali potrebbe essere più facile del previsto. Nemico avvistato! Così si fa! Nessun potere, nessun problema! E affatteremo! C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. C'è un baule con l'equipaggiamento nelle vicinanze. C'è un baule con l'equipaggiamento nelle vicinanze. C'è un baule con l'equipaggiamento nelle vicinanze. E' un bel allenamento! Non siete soli! State in guardia, Avengers! Aia! Questo l'ho sentito! Ok, facciamo di meglio, Avengers! Gli da accettare! Maledizione, uomo di metallo! Ragazzi, un aiutino! Vieni a te! Ehi, e questo da dove arriva? Una passeggiata! O una corsetta? Sì! No! Possiamo arrendersi! Facciamogli vedere chi siamo! Il potere del di te! Ehi, sento che stai un'altra? Corchiatevi anche! Perché non vi prendete una pausa? È ora di fare sul serio! Sì! Queste sentinelle cadute hanno delle funzioni di autoliparazione e possono comunicare alla velocità della luce. I Kree sono più evoluti del previsto. È preoccupante. Rilevo altri ostili nelle vicinanze. Fate attenzione Avengers! Non siamo soli! Sì! 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 Nemici! Ancora! Sì! 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 Alla scatta uno skill! Sì! Sì! Sono lì guai! Il tuo non ha paura di nessuno… I registri di battaglia indicano che questi giganti sono stati costruiti oltre 10.000 anni fa. Questa informazione è molto utile. Ottimo lavoro Avengers… Doviamo imparare di più dal futuro se vogliamo fermare il Kree nel nostro passato. Continuerò a cercare altri campi di battaglia Kree Grazie per il vostro supporto Grazie per la visione 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 Grazie per la visione